Ciao a tutti ragazzi! Bentornati su Mega Wow! Ci si avvicina a Natale! A voi piace come periodo? Le luci, le canzoncine, rosso, verde, l'agrifoglio, la 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 la! Oggi è nato un germoglio, la 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 la! E se anche a te piace il Natale, lascia subito un like! E riceverai una sorpresa! Forse è una bugia! Anche a Natale bisogna tenersi al passo con la moda! Come scusa? Hai già capito di cosa si tratta? Bene! Allora benvenuti nel momento fashion! Ho organizzato una caccia al tesoro per l'ala! Per trovare uno dei calcettoni più fashion dell'anno! Ciao! Ciao happy! Ciao amici di Mega Wow! Oggi abbiamo dei nuovi cannocchiali! Non che so! Sono roto di carta e gelica! Perché oggi andremo a fare una challenge! Nello specifico è la carta igienica challenge! Esatto! Andremo a fare la carta igienica challenge! E ci saranno dei premi per questa challenge! E li abbiamo qui dietro! Ta-da! Guardate un po' che cosa è appena arrivato! Ce l'ha spedito Happy! Questo è il calzettone delle Nana Surprise! Che abbiamo aperto nel nostro canale! Quindi andate a vedere il video! Ma qui siamo per fare appunto questa challenge! Abbiamo bisogno di alcune calzettine contenenti delle cose! E di due rotole di carta igienica! Lo potete poi rifare anche voi a casa! Ci saranno tre Munch! Quindi chi troverà una Nana potrà pescare dal calzettone! Pronti? Pronta! Prima Munch! Pronta! Arriva il primo! E adesso arriva anche il secondo! E arrivo pure io! Pronta! 3, 2, 1, via! No! Prima Munch ha vinto lei! Che c'è nella tua? Vediamo! Cosa hai trovato nella tua calza? Una Nana Nana! Oh! Quindi potrai pescare dal calzettone! Ma mi viene una curiosità! Quanto ci sarà stato nella mia? Ma Pisa che cos'è? Non lo so! Un barattolo! E' del mais! Vabbè il mais mi piace! Prendi il tuo primo premio! Che cosa tirerai fuori? E' il tuo io! Ok! Che fa le orecchie? Te lo vuoi mettere? Ok! Wow! Che c'è sopra? Fammi vedere che si vede! L'unicornina della serie 1! Caldi? Adesso me lo tolgo per giocare! Dai continuiamo! Seconda Munch! Pronti? In partenza via! No! Non si può tirare troppo forte altrimenti cade! Pronti? 3, 2, 1, via! Eh eh! Eh eh! Oh! Questa mancia l'ho bianca io! Vediamo un po' che cosa c'è! Ah! No no no! Quindi posso pescare anche io dal calzettone! Ok adesso tocca a me! Anch'io! Anch'io posso pescare dal calzettone! Il diario di Perush! Ovviamente per scriverci sopra bisognerà togliere il caffè! Vieni qui! Vieni qui! Guarda che ti metto il cappellino! Voi metti il cappellino! Voi c'è il cappellino! Voi metti il cappellino! Guarda come si chiara! Ok! Io ho preso la nananà questa volta! Ma tu dovresti avere del cibo nel tuo calzettino! Cosa avrai trovato? Forse del mais anche tu! Delle lenticchie! Che hai trovato? Posso beggiarla? No! Ma che ho detto? Ho detto di no! Ecco è arrivata pure quell'altra! Terzo round! Pronti? 3 2 1 Vieni! Il mio è pesantissimo! No il mio è pesantissimo! Cosa ci sarà nella tua terza calzetta? Vediamo! Penso una nanna perché... La forma? E infatti! Oh! Quindi anche questa volta pescherai dal calzettone! Ma il tuo che c'è? Dai! Aprilo tu! Una banana! Ok! Questa non la mangi eh! Chiaro? Chiaro! Perché ci sono tre cose in questo calzettone! Vediamo cosa troverai adesso! Una matita! Una matita! Che carina! Con unicornino! È bellissima! Non è una matita! È una penna! Carinissima! Lei piace anche a Susi! Ti 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 prende a cornate! Bene Happy! Come hai potuto vedere ci si può divertire anche con due semplici rotoli di carta igienica! Certo se c'è un calzettone delle nananà ci si diverte di più! Noi vi salutiamo e vi aspettiamo per un prossimo video! Ciao ragazzi! Un bacio a tutti quanti! Ve l'avevo detto che era il calzettone più fashion dell'anno! Noi comunque ci vediamo domani con un nuovo video! E mi raccomando! Seguite! Ciao ragazzi!